Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco per parlare della polemica sui fondi destinati alle parrocchie e agli enti di culto. Ne abbiamo parlato con i consiglieri comunali Salerno e Caldarola, poi l'aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, lieve aumento dei casi a Torre. Annunziata De Luca parla di dati rassicuranti in campagna e di ripresa delle attività economiche nel consueto aggiornamento del venerdì. Poi parliamo di salute e prevenzione, arriva dalla Clinica del Sorriso di recente inaugurata a Torre del Greco, l'appello dei VIP alla prevenzione. In chiusura lo sport con la Turris, nuova vittoria dei Corallini domenica a Liguori, battuto il Palermo per 3 a zero. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Vincenzo Salerno è polemica sui fondi previsti per oratori e parrocchie. Che cosa sta succedendo? Sono fondi ministeriali del Ministero della Famiglia che il Comune ha deciso di gestire attraverso l'utilizzo dell'operato degli enti di culto delle parrocchie e degli oratori. Una scelta tutto sommato condivisibile in quanto le parrocchie sono diffuse sul territorio e risaputamente capaci di poter essere un centro di aggregazione. Il punto sta che nell'analizzare gli atti, quello che è balzato agli occhi è stato il fatto che queste parrocchie erano state chiamate a competere per il finanziamento, presentando dei progetti, sono state esaminate da un gruppo di lavoro che in base alle griglie di valutazione ha stilato una graduatoria e poi viene scelto da parte dello stesso gruppo di lavoro di non premiare i progetti migliori a discapito dei peggiori ma di dare lo stesso importo a tutti e quindi da un concorso di finanziamento ci è apparso un contributo a pioggia. Quindi quello che non si comprende è il criterio adottato per l'assegnazione di questi fondi perché c'è una discrepanza tra i punteggi dei singoli progetti e i fondi assegnati. Esattamente perché una diversa valutazione vuol dire progetti qualitativamente migliori e soprattutto un'altra cosa che appare strana è che lo stesso contributo viene dato a prescindere dal numero di ragazzi coinvolti. Un'altra perplessità che abbiamo sottolineato è che essendo il comune l'attore principale in entrata e in uscita dell'intero progetto non abbia un stilato, un avviso pubblico per poter accogliere le istanze da parte dei cittadini. Quindi non ha possesso di quelli che sono i processi di formazione dei gruppi di ragazzi che poi effettivamente parteciperanno a queste attività. Nell'occhio del ciclone è finita anche la chiesa evangelica luterana, perché? Perché tra i 17 enti di culto che hanno partecipato la commissione di trasparenza si è ricordata della partecipazione di quest'ente circa un anno fa, se non anche di più, quando sono state regalate al comune di Torre del Greco dei Cessini per le deiezioni canine e ricordavamo che fosse la comunità di Torre Annunziata. In realtà è proprio questo che chiediamo un attimo in approfondimento, se effettivamente questo ente di culto opera fattivamente sul territorio o se invece non aveva i requisiti per poter partecipare. Luigi Caldarola, per fare chiarezza su questa vicenda, voi avete appunto chiesto al segretario generale delle uscite azioni in merito. Sì, abbiamo chiesto al segretario generale come organo di trasparenza e anticorruzione di chiarirci alcuni aspetti che ci sono balzati dagli occhi in sede di commissione, sia l'attribuzione dei punteggi, sia per quanto riguarda il controllo effettivo dei documenti che era stato richiesto alle parrocchie. Dalla relazione che ci è pervenuta ad oggi ci è balzato agli occhi che alle parrocchie sono stati chiesti dei documenti che probabilmente le parrocchie non rilasceranno mai perché l'antimafia o tantomeno i flussi finanziari o l'equitalia, insomma dei documenti che ci appaiono ad oggi forse eccessivi come richiesta per gli enti di culto e quindi probabilmente così come ci ha già riportato la dottoressa Sacco in commissione verranno certificate con una dichiarazione. Se così fosse ci viene ancora più chiaro il dubbio che forse questa procedura andava, così come abbiamo chiesto al segreto generale, sospesa in autotutela per far sì che si chiarissero questi dubbi. Come intendete procedere? Siamo in attesa dei documenti, stamattina siamo passati agli uffici delle politiche sociali per chiedere di integrare alcune documentazioni, insomma in giornata produrremo ulteriori richieste per far sì che comunque tutto venga fatto secondo trasparenza e legalità perché la trasparenza non può essere delegata solo per dei fini che sono benevoli perché sicuramente la scelta di deputare le parrocchie e gli oratori del territorio è una scelta che è condivisibile e che potremmo sposare in pieno visto che sono i primi diciamo fruitori del malessere dei cittadini e dei bambini in questo caso. Quindi ben vengano queste idee e queste iniziative ma che vengono fatte con trasparenza e legalità perché è l'obiettivo minimo che un'amministrazione si deve porre. Casi in aumento a Torre Annunziata. Certificati infatti 12 nuovi casi nelle ultime 72 ore a fronte di 213 tamponi processati con un indice di positività pari al 5,63%. Allo stesso tempo si registrano tre nuove guarigioni. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 51.415. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 23.317 mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 28.098. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, non è stata registrata nessuna nuova guarigione ma è stato certificato un nuovo caso positivo. Attualmente in totale ci sono ancora 13 pazienti ospedalizzati e 91 contagiati in isolamento domiciliare. Infine, secondo il bollettino regionale, in Campania sono stati registrati 313 nuovi positivi su 20.883 test effettuati. Ottime notizie per quanto riguarda la vaccinazione, visto che sono state superate le 8 milioni di dosi somministrate. Complessivamente al momento sono stati vaccinati con la prima dose 4.223.018 cittadini. Di questi, 3.697.104 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose. Sono invece 79.937 le terze dosi. È stata quindi raggiunta la soia dell'80% di vaccinati con ciclo completo, pari a 4.083.236 dosi. Sono rassicuranti i dati sui contagi evidenziati dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca nel suo consueto aggiornamento del venerdì. Anche sul fronte della scuola la situazione resta sotto controllo. Per quanto riguarda la campagna vaccinale si procede con la terza dose. Abbiamo in Campania ormai l'80% di nostri concittadini sopra i 12 anni che hanno fatto anche la seconda dose e sono immunizzati. Stiamo procedendo anche alla somministrazione della terza dose e poi dovremo ovviamente contestualmente far partire, ma siamo già partiti, prima regione d'Italia, per le vaccinazioni anti-influenzali. Quali sono gli obiettivi che abbiamo dal punto di vista del Covid? Primo obiettivo ovviamente per la tutela sanitaria dei nostri concittadini è quello di uscire definitivamente dall'epidemia. Abbiamo due obiettivi interni a questo obiettivo generale. Primo, non chiudere più le scuole. Secondo, non chiudere più le attività economiche nella nostra regione. Questi sono gli obiettivi. Ad oggi non registriamo, grazie a Dio, focolai nelle scuole della Campania e prosegue l'attività in presenza. È una cosa di valore straordinario. Non manca un riferimento di De Luca alle attività economiche che sono riprese dopo un periodo di grande difficoltà. Di qui l'ennesimo appello a continuare a vaccinarsi. Oggi queste attività grazie alle vaccinazioni sono aperte. Dobbiamo fare in modo che non si richiudano per responsabilità di quelli, una minoranza esigua, che ritengono di non vaccinarsi. Allora, vediamo di fare ancora una volta, per quanto possibile, un piccolo ragionamento. Oggi in Italia più dell'80-83% dei cittadini si sono vaccinati, almeno con una dose. In Campania abbiamo, ripeto, l'80% che hanno fatto la seconda dose sopra i 12 anni. Il senso di responsabilità, il senso civico dei nostri concittadini ci ha consentito di raggiungere questi obiettivi. Siamo a un passo dal superamento dell'epidemia Covid. A condizione, ovviamente, che i nostri amici no vax, no green pass, non producano da qui a qualche settimana una nuova stagione di contagio Covid. Allora, ogni 48 ore ti fai il tampone e te lo paghi. Dici, ma deve pagarlo lo Stato. E perché deve pagarlo lo Stato? Nel momento in cui ti offre la possibilità di farti gratuitamente il vaccino. Perché non me lo voglio fare? Bene, le tue fisime, i tuoi sfizi, te li paghi. Punto. In occasione dell'inaugurazione della Clinica del Sorriso, la struttura sanitaria di assoluta eccellenza nata su iniziativa del dottor Giovanni Sansone, non è mancato un appello alla prevenzione. Fare prevenzione permetterà durante il mese di ottobre a tantissime persone di ritornare a fare la cura del cavo orale che era stata interrotta a causa del Covid. La prevenzione è una cosa importantissima che tutti dovrebbero fare in quanto prevenire ovviamente ci dà la possibilità di anticipare eventuali malattie del cavo orale e come la carie, principalmente che è la cosa che più fa paura per la perdita dei denti e ovviamente ancora di più le parodontiti che sono la malattia del momento che porta necessariamente alla perdita dei denti. Io ed altri colleghi soci attivi Andi mettiamo a disposizione i nostri studi per la visita odontoiatrica gratuita. Quindi in questo momento è utile approfittare per verificare lo stato di salute della bocca e ovviamente per prevenire. La nuova clinica altamente specializzata in chirurgia odontoiatrica e in impiantologia dispone delle più moderne tecnologie che consentono di intervenire in maniera non invasiva e con strumentazione di apparecchiature high tech. Ottobre è il mese della prevenzione e la cura dell'arcata dentaria è assolutamente necessaria per garantire buone condizioni di salute e per assicurare un sorriso sano e protetto. Testimone di eccezione dell'evento inaugurale è stata l'attrice Angela Bertamino. Tutti gli attori intervenuti hanno lanciato un accorato appello a non trascurarsi, a prendersi cura di se stessi e praticare una sana prevenzione. Il sorriso è quanto di più immediato abbiamo nella comunicazione, è la cosa che più arriva all'altra persona nel momento in cui stai dialogando, stai parlando, stai recitando. È l'espressione più netta del nostro volto ed è una caratteristica che va ad ogni modo curata, va tutelata. Siamo stati costretti per tanto tempo a tenerlo nascosto dietro le mascherine, questo sorriso, e adesso che possiamo in qualche modo esternarlo, riproporlo, farlo mostrarlo, è giusto che la prevenzione venga fatta, che venga curato, venga protetto. L'importanza del sorriso per un attore, per chi fa cinema, per chi fa teatro è fondamentale e magari non avere problemi per un intervento è anche la soluzione migliore. Ma l'importanza del sorriso, il sorriso per chi fa il nostro lavoro, il mestiere del comico è come per le castagne per il castagnaro, se non ci sono sorrisi non ci sono guadagni, non ci sono cose, quindi l'importanza del sorriso economicamente è questa, poi per un fatto di salute il sorriso fa bene. Il sorriso per noi è vitale, noi attori è la cosa più importante che ci sia e in questo periodo ci è mancato tantissimo, a noi come attori ma soprattutto anche alla gente è mancato proprio sorridere perché non siamo stati più bene, quindi il sorriso credo che faccia parte anche del buon umore, quindi è una cosa positiva sorridere, il sorriso è importante, come è importante anche la prevenzione, sia una delle cose più giuste, quindi si ritorna ad una certa normalità, speriamo al 100% quanto prima. In questi mesi abbiamo sorriso dietro la mascherina, magari mascherando anche qualche carie, adesso è arrivato il momento di tornare dal dentista. Ma assolutamente sì, per una bella sbiancatura, una bella pulizia bisogna lucidare la rentatura come si dice a Napoli, visto che adesso possiamo sfoggiare i sorrisi come più ci piace. La Turris riprende la corsa interrotta la settimana scorsa, travolgendo per 3-0 il mancapitato Palermo al termine di una prestazione tra le migliori offerte fino a ralliguri dalla squadra di Caneo. I Corallini che stanno vivendo una fase di stagione molto positiva sotto il punto di vista del gioco partono subito forte con Santaniello che prova a incunearsi nella difesa siciliana anticipando l'uscita del portiere ma non trova la porta. Al ventunesimo il Palermo ad andare vicino al vantaggio con Doda che schiaccia di testa ma Varutti salva sulla linea. Alla mezz'ora ancora un'incursione in area di Santaniello che questa volta viene atterrato da Peretti ed è calcio di rigore. Già non è calcio forte ma Pelagotti si supera respingendo il tiro, poi la difesa libera. Poco male perché pochi minuti dopo la Turris passa con Santaniello che di testa raccoglie un perfetto cross di Franco, Pelagotti respinge ancora ma sulla ribattuta l'attaccante Corallino stavolta non fallisce. Allo scadere di frazione raddoppio Corallino, Tascone in percussione centrale Servio Leonetti lasciato colpevolmente solo al limite dell'aria che trafigge di nuovo l'estremo difensore Rosanero. Nella ripresa il copione non cambia con la Turris in controllo e il Palermo con poche idee è quasi mai pericoloso. A metà secondo tempo ancora un rigore per i padroni di casa con Franco che prima con una bella azione entra in area procurandosi il fallo, poi si presenta lui stesso dal dischetto ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa fallendo il secondo penalty di giornata. Dall'olio per i siciliani prova a riaprire il match con un bolide da fuori, poi mischia in area ed Essili può andare vicinissimo al gol ma c'entra la traversa. Sul ribaltamento è Tascone a fallire il più facile dei match ball. Nella recuperazione del neoentrato Longo, la sua conclusione è ribattuta dalla difesa con il palone che si impenna e su cui arriva un altro neoentrato, Pavone, che al volo con una perfetta rovesciata sigla probabilmente il gol più bello della stagione Corallina. La fischio finale è tripuglio da parte del numeroso pubblico presente sugli spalti per una Turris che si innalza al terzo posto in classifica e arriva col morale altissimo all'impegno di mercoledì alle 20 sempre a Ligori contro il Campobasso. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS